Ammazzalo! E comincia la notte della vendetta. Non c'è più scampo. Suspans, terrore, passione, brivido, formano il mosaico di una vicenda originale e imprevedibile dove la realtà sembra fantasia e la fantasia realtà. Cinque tombe per un medio. Alla via da quella villa, signorina. È un luogo maledetto. Salvatevi finché lo potete, prima che sia troppo tardi. Accadono fatti allucinanti, inspiegabili. E solo un lieve diaframma separa la realtà dal soprannaturale. Cosa nasconde l'inquietante e sensuale padrona della villa? Anime senza pace degli untori che vagate tra queste mura! Vendicatemi! Vede questi? Si direbbe sfregiato. Quei solchi sono fatti da cinque ditta. Ci sono forze soprannaturali in questa vita. E mio padre tentava di materializzare. Cinque tombe per un medio. Sua spalla. Un po' più giù. Ma che cos'hai? Ti tramano le mani? È morto il borgomastro. Questo è l'atto di decesso di Jeronimus Howe. Fu compilato dai cinque che hanno assistito alla sua morte. Ora vedrete anche voi. Ti aspettavo. Sapevo che saresti benissimo. Chi era veramente Jeronimus Howe? Un visionario, un pazzo o uno scienziato? Cinque tombe per un medio. È il film per gli amanti del brivido e delle violente emozioni. Un film che dovete vedere dall'inizio. Cinque tombe attendono le loro vittime. È la ferocia di un assassino o la vendetta dell'oltretomba? Cinque tombe per un medio. Diretto da Ralph Zucker. E magistralmente interpretato da Barbara Steele. Walter Brandt. Marilyn Mitchell. E uno stuolo di altri ottimi attori. Cinque tombe per un medio. Presentato dalla MBS. Prossimamente su questo schermo. Prossimamente su questo schermo.